ben tornati in diretta con buongiorno weekend è arrivato quel momento il momento del caffè giusto il tempo di un caffè con vediamo insieme iscriviti al canale poliedrica daniela stalteri buongiorno 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 benvenuta buongiorno weekend grazie ben trovati e grazie per essere qui anche perché soprattutto dico sempre un po' una faticaccia chi va in scena il giorno prima puoi venire svegliarsi presto qui quindi grazie per il tuo tempo però io sono un'attrice atipica a ti svegli perché mi sveglio sempre molto presto anche se la sera faccio tanti allora sei perfetta per buongiorno weekend ma con l'occasione ti offriamo un caffè grazie se lo vuoi se lo gradisci sì sì volentieri perché questo spazio si chiama giusto un caffè e quindi la domanda che viene da sé è buongiorno daniela benvenuta buongiorno weekend e che caffè si sente mi sento mi sento un caffè concentrato molto ristretto concentrato perché sono una persona pratica e decisa e appunto concentrata sulle mie cose non voglio perdere tempo e mi dedico in maniera molto dritta a quello che voglio fare davvero artista tipica perché si sveglia presto la mattina e concentrata e sicura del 100 per cento di quello che fa sì sono diciamo sono più che altro una grande lavoratrice ecco poi dello spettacolo però soprattutto una lavoratrice per me appunto il lavoro è questo è svegliarsi presto la mattina lavorare 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 perché anche l'arte in realtà non è soltanto genio e sregolatezza ma è grande disciplina appunto è fare le vatacce e ogni giorno inventarsi il proprio lavoro non stare lì aspettare che suoni il telefono che qualcuno si ricordi che esisti quindi per me è questo ed è molto molto bello perché questo è un po' uno spazio che vuole anche dare un messaggio a chi magari vuole approcciare in questo momento è giovane al sogno di fare l'attore e l'attrice di lavorare nel mondo dello spettacolo perché alcune volte si è un po' si ammira quella luce quel quel bagliore quella popolarità quel successo insomma è tutto il bello di un lavoro che effettivamente è bello meraviglioso il più bello del mondo come dico sempre io esatto però comunque è un lavoro e quindi ha delle difficoltà questo abbiamo capito soltanto parlando appunto di un caffè e invece banalizzando e se fossi un cornetto che cornetto saresti? Ah se fossi un cornetto sarei un cornetto ripieno di tanti gusti ecco tanti variegato sì 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 sicuramente beh perché sicuramente appunto questa determinazione però ha con sé un spaccettatura mille spaccettature perché se no non riusciresti a fare veramente tutto quello che fai in effetti poliedrica mi sembra il termine più giusto perché spazi tantissimo dal teatro al cinema televisione ovviamente ma con personaggi sempre diversi infatti grazie per questo fantastico video ho faticato anch'io a riconoscermi ma sono sempre io questa sì perché mi piace andare a scovare un po' quelli che sono stati anche i primi lavori magari perché è giusto e ti conosciamo per tantissimo teatro per gli ultimi appuntamenti cinematografici o televisivi però in realtà quando poi riguardiamo quei primi momenti in cui approcciavamo al mondo dello spettacolo a questo lavoro sicuramente viene un po' di nostalgia quando hai iniziato cioè ti ricordi il momento in cui ti sei detta daniela tu farai l'attrice ma in realtà me lo sono detta dopo aver già cominciato a fare l'attrice perché io ero una semplice studentessa un po' tanto semplice no non è vero anche lì immagino determinata studiosa secchionissima ma secchionissima devo dire che e questo mi ha aiutato anche nel lavoro di attrice ho sempre avuto una grande facilità nell'apprendimento quindi ero secchiona ma non perché stavo ore e ore a studiare perché effettivamente mi bastava leggere mezza volta una cosa me la ricordavo questo mi aiuta anche appunto molto con i copioni perché vado a memoria molto facilmente e quindi una studentessa e il mio hobby il mio unico hobby era cantare e scrivere canzoni io suonavo la chitarra scrivevo canzoni poesie che poi diventavano canzoni ed era un po appunto il mio il mio hobby suonavo con gli amici poi successe nel lontano 1999 quindi lontano avevo 19 anni quindi facevo l'ultimo anno di scuola di liceo classico e mi scelsero per fare un film perché facevano dei casting nelle scuole per cercare questa protagonista giovane di questo film per il cinema io ero lì a scuola e entrò questo questo signore che poi ho scoperto che era l'aiuto regista di questo film disse posso dare un attimo un'occhiata così guarda sentita puoi alzarti un attimo ci raggiungi un attimo fuori nel corridoio sì ma ci dici come ti chiami bla 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 eccetera insomma te la faccio breve ho girato questo film totalmente inconsapevole cioè ho detto vabbè andiamo facciamo sta cosa perché sono fatta così io mi butto in qualsiasi cosa mi lancio e mentre giravo questo film ho cominciato a dire ah beh carina sta come chissà sarebbe sarebbe bello quindi terminato il film mi sono iscritta a una scuola di recitazione ho iniziato l'università e parallelamente ho iniziato a fare un un corso di teatro quindi diciamo che già facendolo ho pensato vorrei fare però l'avevo già cominciato a fare in realtà ed è una grande fortuna ed era il 99 se non avessi fatto l'attrice invece che cosa allora fare è quello che poi in realtà per un periodo fatto per un periodo fatto ovvero la giornalista la correttrice di bozze e l'editor perché ho lavorato per delle case editrici cercando ancora per un periodo di far conciliare le due cose poi ho capito che era impossibile ho detto devo scegliere allora scelgo la recitazione quindi comunque la scrittura fa parte di te poi è esplosa anche nel mestiere da attrice e da sceneggiatrice drammaturga e quindi comunque faceva parte di te questo linguaggio della scrittura sì assolutamente è faticoso coltivarla in un momento in cui appunto poi prendi popolarità inizi a lavorare effettivamente solo di questo quindi come come attrice è faticoso coltivare la scrittura oppure fa parte di quella tua routine quotidiana per cui riesci a scrivere e dedicare del tempo alla scrittura sempre allora il vero problema è che più passano gli anni e più si ha una specie di blocco creativo non tanto perché non si hanno le idee perché devo dire che io osservando sempre tantissimo quello che ho intorno ho sempre tantissimi spunti cioè colgo sempre tante cose e quindi in realtà di cose da scrivere ce ne sarebbero tantissime però poi hai il blocco creativo perché pensi che comunque più o meno è stato già detto tutto quindi più che altro lo scarto è ok sarò in grado di dire questa cosa però in maniera originale in una maniera in cui ancora non è stata raccontata quindi e questo ti si affina questo questo problema ma chiamiamolo così con il passare degli anni perché ovviamente le prime cose che scrivi sono un po' più ingenue un po' più naif invece man mano cominci a appunto volerle affinare ancora di più e voler avere anche una tua cifra stilistica che ti caratterizza e quindi questa ricerca di cifra stilistica ti fa essere un po' più prudente nel cominciare a scrivere una cosa è molto interessante perché di questa cifra stilistica l'hai trovata sicuramente in uno dei tuoi lavori più famosi cioè manco fossi Laura Chiatti che è un monologo straordinario in cui appunto Daniela parla della vita dell'attrice in maniera estremamente comica, ironica ma anche drammaticamente attuale cioè vera tragicomica è un monologo che quest'anno compie dieci anni di vita e questo insomma è un bel traguardo perché comunque portare avanti uno spettacolo per tutto questo tempo io non me l'aspettavo devo dire la verità cioè pensavo che insomma avrei fatto uno, due anni, tre anni invece continuano sempre a chiederlo, addirittura qualcuno mi ha detto andrebbe fatto nelle scuole di recitazione, nelle scuole di teatro andrebbe rappresentato insomma come è nata quell'idea, quello spettacolo perché comunque è deciso di affrontare un tema molto importante è anche particolare rispetto al fatto di essere contemporaneamente attrice, drammaturga nasce da quello a cui accennavi prima cioè si viene sempre attratti dal bagliore però come si suol dire non è tutto oro quello che luccica anzi perché questo è un lavoro molto duro pieno di frustrazione, pieno di sofferenza pieno di porte sbattute in faccia, non è un luogo comune, è vero e nasce proprio per raccontare tutte le cose che non vanno bene e tutte le appunto frustrazioni che si hanno nel fare questo lavoro e il vero poi spunto mi è stato dato e non finirò mai di ringraziarla per questo da Cinzia TH Torrini, con lei che io chiamo la mia direttora la chiamo direttora perché io ho girato questa serie tv Terra Ribelle con lei è girata in Argentina quindi la chiamavamo direttora in spagnolo tra l'altro le immagini che abbiamo visto prima esatto le immagini che abbiamo visto e mentre giravamo Terra Ribelle che comunque otto mesi di riprese dall'altra parte del mondo insomma sono abbastanza lunghi e diciamo che durante le cene così i momenti di pausa sul set io raccontavo tante cose della mia vita situazioni che mi succedevano ai provini oppure i 150.000 lavoretti che facevo tra una scrittura teatrale e l'altra tra una fiction e l'altra eccetera devo dire che suscitavano sempre molta ilarità queste mie avventure fantozziane devo dire sì assolutamente fantozziane e Cinzia una volta mi ha detto ma perché non ne fai uno spettacolo guarda che queste cose le dovresti raccontare funzionano funzionano e quindi questo non lo sanno in molti anzi lo sanno veramente poche persone che la prima 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 volta che ho fatto Manco Fossi Laura Chiatti fu sul terrazzo di casa di Cinzia TH Torrini lei fece una cena con un po' di persone e a sorpresa a un certo punto sono sbucata io e ho fatto questo spettacolo perché abbiamo voluto testare la reazione delle persone quindi io non finirò mai di ringraziarla veramente perché non pensavo neanche di essere in grado di scrivere devo dire la verità cioè erano cose che io raccontavo così e lei mi ha detto no facci uno spettacolo quindi è nato da questo ed è nato per raccontare veramente che dietro questo lavoro ci sono tante cose anche da sfigati ragazzi diciamolo dietro questi attori che dicono sono in un momento sai sto valutando delle cose sto leggendo dei copioni non è vero non stanno a fare niente stanno a casa a guardare il soffitto disperati diciamolo siamo esseri umani abbiamo i nostri momenti di down rosichiamo quando non lavoriamo è così ragazzi facciamoci pace evviva la sincerità oh finalmente a proposito di questi momenti di alti e bassi effettivamente come li hai vissuti penso ad una Danila molto giovane che si trova catapultata in un mondo a quale non aveva mai pensato come li hai affrontati prima e come li affronti adesso perché alcune volte i bassi sono molto bassi è un lavoro psicologico anche quello dell'attore ecco come riesci come sei riuscita a navigare in queste onde allora io ho avuto tutta una lunghissima fase da scritturata a livello teatrale quindi ovviamente io facevo i provini le selezioni, le audizioni aspettavo che qualcuno mi scritturasse e sono stata scritturata tante volte anche per fare spettacoli importanti con teatri stabili turni di due anni quindi non mi lamento però era sempre una roulette russa stessa cosa per quanto riguarda le fiction fai 150 provini forse te ne prendono per un progetto perché è proprio così che funziona perché c'è una offerta che è di gran lunga superiore alla richiesta siamo tantissimi e i progetti sono meno rispetto alla quantità di attori quindi è veramente molto difficile e quindi c'è stato un grande periodo di frustrazione nel senso di ma come? io sono qua, che studio mi dicono tutti che sono brava eppure sì, ok, lavoro però lavori un mese poi non lavori per quattro poi li lavori poi non lavori per sei mesi e così come ho risolto? rimboccandomi le mani e creandomi il lavoro da sola molto semplice quindi quella sensazione di cui io parlo sempre cioè di stare a guardare il muro bianco e aspettare che suoni un telefono io l'ho azzerata perché il telefono non lo devo far più suonare perché mi sono cominciata a scrivere ho cominciato a scrivere le mie cose e a portarle in scena semplice quindi meraviglioso un autoaiuto effettivamente è così tra l'altro tra le altre che hai scritto c'è anche odio i monologhi odio i monologhi però li fatti esatto perché è una dicotomia in sé però è effettivamente così tra i tanti che hai scritto c'è anche quest'ultimo che stai portando in scena proprio in questo periodo al Teatro dei Servi ha iniziato ha debuttato il 30 aprile continuerà fino al 12 maggio ti va di sposarmi con un amico di Buongiorno Weekend perché è venuto anche qui ospite a Buongiorno Weekend Leonardo Bocci ma anche con Roberta Garzia Garzia ecco là lo dovevo sbagliare un accento oggi e Antonio Di Francesco che cosa ci dobbiamo aspettare intanto risate quello sicuro sì risate ma non solo perché comunque la mia cifra stilistica è sempre questa visto che l'hai trovata dopo tanto sì ed è bello questo ho capito che far ridere è importante io mi ritengo una persona abbastanza insomma ironica autoironica mi piace ridere mi piace divertirmi però mi piace anche parlare di malinconia di tristezza perché è sempre l'altra faccia della medaglia credo che fare uno spettacolo dove si rida e basta sia un po' superficiale mi piace un po' andare in profondità sempre rimanendo ovviamente in un contesto di commedia per carità quindi cosa ci aspettiamo ci aspettiamo risate perché ci sono anche qui tante situazioni surreali perché comunque la realtà supera la fantasia molto spesso però ci sono anche situazioni il termine abusato è quello lì della riflessione però effettivamente si riflette molto su tante condizioni come la solitudine come il fatto che ci affidiamo sempre di più alle app di incontri ai social o anche alla condizione della donna superati i 40 delle donne che non sono sposate non hanno un partner fisso e che si sentono magari scadute che pensano che insomma l'ultimo treno si è già passato e quindi devono accontentarsi anche di un uomo magari che non le stima e non le apprezza più di tanto insomma parlo di tutte queste cose qui le mie estremamente attuali e vicini insomma a chiunque abbia o stia vivendo quei momenti o comunque abbia delle persone vicine che stanno vivendo quei momenti Sara e Valentina le due protagoniste sono amiche e ovviamente questo è uno spettacolo che oltre al titolo ti va di sposarmi quindi si ipotizza si parli di amore e in realtà parla anche tanto di amicizia ecco in un mondo come quello del mondo dello spettacolo che alcune volte si fa fatica almeno si pensa si faccia fatica a collezionare dei rapporti sinceri nella tua esperienza invece che valore ha l'amicizia soprattutto nel mondo dello spettacolo e nel tuo caso allora l'amicizia ha un valore altissimo infatti in ti va di sposarmi si parla soprattutto di amicizia perché viene vista come la forma più alta di amore perché è quella più disinteressata perché comunque in un rapporto di coppia canonico coppia che sia etero che sia gay come ti pare però c'è sempre comunque un po' di interesse di interesse anche solo per il fatto del fattore fisico ecco invece nella perché comunque il sesso conta ok invece quando si tratta di due amici due semplici amici due semplici amiche è la forma di amore più pura perché non ci sono altri altri sviluppi e veramente si tratta dell'amore tra due anime quindi parlo tanto di questo l'amicizia per me è importante nel mondo dello spettacolo è difficile che poi il mondo dello spettacolo il mondo è il mondo è il mondo per tutti però questo è un lavoro molto frenetico dove è difficile coltivare delle amicizie perché magari si lavora tanto insieme per un periodo concentrato e dove si sta insieme tante ore al giorno quindi magari nascono delle amicizie che poi si fa fatica a coltivare perché? perché siamo sempre in giro perché stiamo un mese a Roma poi andiamo a Milano poi andiamo qua poi andiamo là e già è così difficile coltivare appunto i rapporti di coppia che anche coltivare l'amicizia è difficile però come per i rapporti d'amore chi ci tiene veramente a te c'è comunque e io ho qui con me in studio un caso di amica che comunque c'è sempre e c'è credo da una ventina d'anni che è il mio ufficio stampa Laura Beretta che voglio salutiare pubblicamente sia per il suo lavoro come ufficio stampa ma soprattutto per il suo lavoro da amica perché mi sopporta da vent'anni appunto e appunto siamo entrambe due donne in carriera due donne che lavorano lei ha famiglia figli tutto quanto io no però di fatto siamo riuscite a incastrare anche solo con una telefonata cioè io so che lei c'è e lei sa che io ci sono e questa secondo me è una forma d'amore assolutamente ed è come dicevi tu la più pura perché non c'è nessun altro interesse dietro e quindi è veramente pura sei una di quelle amiche che vabbè credo proprio di no però ma soltanto per questioni lavorative che ha bisogno del messaggio ogni giorno oppure ci possiamo sentire possiamo non sentirci per una settimana e poi quel messaggio vale tutta la come scrivono sulle ricette mediche al bisogno al bisogno che può essere o voler parlare assolutamente di una cosa magari insomma un momento brutto un accadimento non proprio piacevole ma può anche essere voler condividere un successo una soddisfazione una sensazione positiva ecco sì al bisogno sapere che quella persona c'è anche solo per dirsi ad esempio noi con Laura facciamo molto spesso colazione usciamo poco la sera perché io molto spesso sono in scena lei giustamente ha un bambino piccolo tutto quanto e quindi noi abbiamo ci siamo ritagliate questo spazio della colazione ci piace molto fare colazione insieme quindi ogni tanto ci mandiamo il messaggino colazione domani sì e quindi ci parliamo poi delle nostre cose mi fa molto piacere che hai detto questo perché l'idea di giusto un caffè quando l'ho ipotizzato era proprio quello avere il tempo giusto il tempo di un caffè però per potersi raccontare qualcosa e quindi sono davvero felice che tu abbia accettato il mio invito e invito tutti i telespettatori di Roma o a Roma in questi giorni di godere di questo spettacolo ti va di sposarmi tra l'altro abbiamo anche delle immagini che possiamo utilizzare un attimo di copertura perché lo spettacolo è molto video intendo molto dinamico e soprattutto capiamo effettivamente che il pubblico ride 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 e si diverte ogni minuto che passa c'è sempre qualcosa che accade e quindi è veramente uno spettacolo imprevedibile assolutamente sì diciamo che anche questa è un po' una mia cifra stilistica sono molto dinamici questi spettacoli si passa sempre da uno stato emotivo all'altro da una situazione all'altra anche i cambi scena sono molto sono molto frequenti poi compagni di viaggio anche sulla scena incredibile anche con Leonardo hai tanta amicizia e tanti anni di collaborazione Leonardo è stato veramente una bella scoperta perché è un ragazzo di una semplicità disarmante pur essendo una persona molto profonda semplice a livello di volgarmente parlando non se la tira è una persona assolutamente stacanovista a livello lavorativo disponibile ed è stata veramente una bella scoperta io quando ho pensato a lui per questo personaggio con la faccia di che mi contraddistingue mi autocensuro non lo conoscevo assolutamente guardavo i suoi video e lì mi colpì proprio questa cosa ho pensato che fosse la persona giusta per me perché anche lui fa ridere ma in alcune cose ha un velo di malinconia di riflessione allora ho detto ma quasi quasi gli scrivo perché proprio avevo pensato a questo personaggio che era perfetto per lui gli scrivo su instagram pensando vabbè tanto non mi risponderà mai mi ha risposto ah sì va bene vediamoci qua eccetera e da lì è partita questa collaborazione che ci ha portato poi a lavorare insieme anche nel suo primo one man show AO di cui ho curato la regia e la produzione e prossima stagione ci sarà anche un altro spettacolo spoiler questa cosa anticipo ci sarà un altro spettacolo quindi sì Leonardo è un'altra di quelle persone da coltivare perché è veramente è veramente un bravo ragazzo perché ama poi il suo lavoro in una maniera incredibile lui è un altro che forse non sembra ma lui è un altro che martella si dà tanto da fare è stata una piacevolissima scoperta anche per noi qui a Buongiorno Weekend Danila io ti ringrazio davvero tanto per il tuo tempo e insomma invito tutti ad andare a teatro al Teatro dei Servi meraviglioso dal 30 aprile al 12 maggio ti va di sposarmi grazie ancora Danila vi aspetto grazie a voi grazie buon sabato buon weekend grazie e merda 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 per lo spettacolo giusto qualche minuto di pubblicità e poi approfondiremo questo tema il tempo ne abbiamo tanto ne abbiamo poco come lo gestiamo diamo forse più valore al nostro tempo a tra poco grazie a tutti